Abbiamo oggi assistito alla prima conferenza di una serie che ci saranno nell'ambito del progetto 4 passi di salute nel parco organizzato dal dottor Paolo Guiso, dal dottor Ugo Viora. Un progetto importante che mette insieme la volontà di fare bene, di stare bene in compagnia all'aperto ma anche di aiutare la salute delle persone oltre ad avere la possibilità di accompagnare gli animali. A questo proposito oggi la prima conferenza che è stata tenuta dal dottor Diego Rendini, veterinario comportamentalista in cui è stato affrontato quello che è l'adozione consapevole. Essere proprietari di animali è comunque una grande responsabilità e con lui abbiamo affrontato questa tematica. Ce ne saranno altri, il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo 4 dicembre ore 10.30 e si parlerà del benessere e del fit walking. Seguiteci. Sognare si può, siamo a conclusione del primo appuntamento di una serie che ci saranno per quel che riguarda il progetto 4 passi di salute nel parco. Siamo quindi all'interno del parco delle Vallere con il relatore di questo primo evento che è il dottor Diego Rendini, veterinario comportamentalista. Ci ha dato veramente una lezione, nel senso che ci siamo comunque sentiti un po' in colpa perché abbiamo comunque appreso, ci siamo resi conto che ci sono dei limiti, delle credenze che ci condizionano. E quindi a proposito proprio del tema che abbiamo affrontato oggi, quindi quanto sia importante essere consapevoli nella scelta di un animale, cosa significa averlo, poi Natale sta arrivando e quindi c'è proprio spesso questo pensiero regaliamo un cucciolo per Natale. I consigli sono stati veramente molto molto interessanti e quindi volevo chiederti di riepilogarli un pochino brevemente e comunque di sottolineare anche per il nostro pubblico quanto sia effettivamente importante essere consapevoli di quello che stiamo andando a fare. Beh, è stata sicuramente un'occasione molto piacevole per nuovamente presentare quelli che sono concetti che a volte non si conoscono e che in realtà sono poi fondamentali nel momento in cui vogliamo inserire in famiglia un cane, un gatto o un altro animale. A ridosso del Natale c'è sempre a volte un po' questa idea del potremmo anche prendere un cucciolo da regalare per esempio a nostro figlio oppure a mia sorella potrebbe un piacere avere un cucciolo perché non regalare visto che è sempre sola. Ecco, gli animali non sono dei giocattoli lo sappiamo tutti ma a volte li trattiamo come se fossero tali e quindi così come si regala un giocattolo a volte si regala anche un cucciolo ma questo potrebbe creare poi dei problemi sia perché non è detto che la persona che riceverà questo dono sia davvero contenta di dover condividere la propria vita con un animale e in più magari non è una persona preparata a questa convivenza rischiando così di mettere in difficoltà non solo questa persona ma l'animale stesso. D'altronde sono tantissime le credenze sui nostri cani, sui nostri gatti e sul loro comportamento spesso sentiamo ancora parlare di cani che si sentono in colpa per aver fatto il dispetto oppure di capobranco che deve essere quello che impone al resto del gruppo come si vive e quindi anche il proprietario viene a volte invitato anche da alcuni addetti ai lavori a mettersi lì a fare il maschio alfa creando in realtà spesso delle situazioni conflittuali. Ci sono tante leggende metropolitane sul mondo dei nostri amici a quattro zampe riuscire invece a sostituire queste credenze con delle nozioni, con delle informazioni che andranno a sicuramente migliorare il rapporto con i nostri amici a quattro zampe credo debba essere un principio un po' condiviso da tutti soprattutto da quelli che vogliono davvero inserire nel proprio contesto familiare o in quello altrui un amico a quattro zampe. Basta farlo in modo consapevole informandosi. Come possiamo fare se abbiamo un dubbio? La prima cosa che ci consigli di fare piuttosto che sentire l'amico o internet magari rivolgiamoci a qualcuno competente? Esatto, ci sono tanti professionisti che possono aiutare un proprietario a colmare le proprie lacune e quindi a diventare sempre più preparato per accogliere un cane o un gatto in famiglia. La prima cosa magari è contattare il proprio veterinario. Se si vuole poi essere ancora più scrupolosi si può contattare direttamente il veterinario comportamentalista che spesso, come sottoscritto, svolge le consulenze pre-adozione. Oltre che quindi seguire cani e gatti che poi presentano magari qualche problematica comportamentale, ci si può rivolgere appunto al veterinario comportamentalista quando si vuole avere delle informazioni in più per fare una scelta mirata sulla tipologia di cane, su come gestirlo una volta portato a casa, come affrontare le prime notti di convivenza, deve dormire con noi o separato, cosa dargli da mangiare, meglio una dieta casalinga o una dieta commerciale, come insegnargli ad andare a passeggio e come insegnargli, ad esempio, se si tratta di un cucciolo, a sporcare all'esterno e a tollerare il fatto che per qualche ora dovrà rimanere da solo. Quindi più abbiamo queste informazioni prima ancora di inserirlo in casa, più facilmente aiuteremo il nostro animale ad integrarsi nella nostra famiglia. Grazie infinite per questo intervento che oggi è stato veramente molto molto interessante. Non dico esaustivo perché avremmo voluto sapere anche molto di più, ma ci sarà occasione sicuramente in futuro di poter approfondire tutte le tematiche che eventualmente sono rimaste in sospeso. Un grazie per l'intervista, a presto. Ci troviamo adesso in compagnia del dottor Ugo Viora, uno degli organizzatori di tutto il progetto Quattro passi di salute nel parco, ma anche di questa prima conferenza che si è tenuta proprio oggi qui alla Cascina Vallere. Ci dica un po', dici la tua impressione, la tua impressione. Ti ho visto entusiasta, devo dire che è andata molto bene. Direi di sì, entusiasta perché vabbè, io ho un cane per cui ho vissuto quasi tutte le problematiche che sono state sollevate e per fortuna ho avuto anche la possibilità di prepararmi prima, di prendere il cane, per cui effettivamente ho seguito un pochettino il percorso. Primo evento di una serie di tanti, contiamo di fare una ventina tra tematici e di formazione, dalla quattro zampe in famiglia, perché? Perché il progetto Quattro passi di salute nel parco prevede anche la possibilità di venire a camminare, e questa è la cosa importante, ma venire a camminare anche volendo con i nostri animali, con i nostri amici pelosi. E quindi è giusto sapere che però se ci viene detto che il nostro cane non può venire è perché anche lui ha bisogno di potersi rapportare con gli altri animali per poter creare questo spirito di gruppo che loro hanno molto più innaturato di noi, ma che bene o male poi si può scontrare chiaramente nei rapporti perché hanno una loro personalità e quindi è giusto che sia così. Abbiamo voluto partire di qui, siamo sotto Natale, quindi abbiamo voluto anche sottolineare che il cane è un impegno, non è un oggetto, non è un giocattolo, e quindi che è importante prendersi cura non solo di noi stessi, ma anche degli amici che noi ci portiamo in casa. Prossimo incontro, giusto per dirne uno, sarà un incontro più formativo, sicuramente più anche aderente a quello che è la tematica del muoversi per contrastare la cronicità che è un po' lo sfondo e il motivo per cui abbiamo pensato a questo progetto e si parlerà di fit walking, di camminata, camminare bene, ce ne parleranno degli esperti, credo, difficilmente non riconoscibili, Maurizio Dalli Milano che è campione olimpico e due volte campione del mondo di marcia, veramente ho detto tutto, e il responsabile del servizio di medicina e dello sport dell'ESL Città di Torino che sicuramente ci potrà dire perché bisogna muoversi, perché bisogna muoversi con un controllo medico e perché bisogna muoversi in un determinato modo, tant'è vero che avremo anche modo di confrontarci con chi mi seguirà in questa intervista, con Daniela Cogato che è un'istruttrice di fit walking e che ci insegnerà a camminare con una postura e con un modo di farlo corretto perché sennò rischiamo ancora di farci del male. Esatto, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri in radio, ribadiamo il concetto proprio perché è davvero molto molto importante, quindi grazie, aspettiamo Daniela allora. Assolutamente. Grazie infinito. Grazie a voi, grazie di esserci stati oggi. Grazie. Daniela Cogato, a questo punto dopo questa introduzione, chiedi anche tu la tua impressione di questo primo appuntamento e soprattutto introduciamo il prossimo, quello di sabato prossimo, 4 dicembre. Allora il titolo del prossimo incontro sarà proprio Camminare bene per stare bene, quindi il titolo anticipa già quelli che saranno gli argomenti toccati. Abbiamo già citato, perché vi è già citato, che gli ospiti saranno Maurizio Damilano, ha già detto anche campione olimpico, ma anche ideatore del metodo fit walking e nei nostri corsi la tecnica del fit walking sarà quella utilizzata per insegnare a camminare bene, per recuperare di nuovo il giusto movimento, la giusta via meccanica nel nostro movimento. Per quello che riguarda invece lo stare bene sarà il professor Parodi che ci illustrerà quanto fa bene camminare, perché è importante camminare, che effetti ha sul nostro organismo, perché sono molteplici i benefici che il nostro organismo ottiene nel camminare. Poi se io riesco a camminare alzando un pochettino la soglia di quella che è la mia abitudine e quindi impegnando un pochettino di più il mio organismo, questi benefici aumentano in modo esponenziale e quindi ci racconterà anche il perché di questo aspetto. Per cui, che dire, seguiteci il 4 dicembre, di nuovo alle 10 e mezza in presenza alle Cascina Vallere, ci sarà questo incontro o se no nella diretta Facebook, su altri canali, eccetera, eccetera. Buona giornata. Io ti ringrazio per questa nuova introduzione, tra l'altro ricordo che tu sei un'istruttrice e quindi ne sai. Quindi potremo anche prossimamente approfondire e mantenere contatti con te per capire quali sono poi le iniziative all'interno di questi progetti, perché tu ne seguirai. Molto volentieri, molto volentieri. Grazie, alla prossima. Ci troviamo con il dottor Paolo Guiso, in conclusione del primo evento, della prima conferenza, che accompagna il progetto 4 passi di salute nel parco e ci siamo occupati dei nostri amici a quattro zampe. È andata, devo dire, molto bene, come primo di tanti incontri che voi avete in progetto di realizzare. Quindi un'impressione. Certo, ma allora l'incontro è avvenuto nell'ottica della motivazione per cui vengono fatti questi incontri. Incontri semplici, divulgativi, che aprono la porta anche ad argomentazioni nuove. Quella del comportamento degli animali è un argomento importante, perché non sappiamo che quello abbiamo in casa. Dottor Diego Rendini ci ha aiutato a comprendere alcune cose. Potrà essere oggetto di altri incontri, potrà essere oggetto degli incontri che avverranno durante le passeggiate, o prima o dopo, ma comunque che saranno correlate alle passeggiate. problemi con gli animali. Abbiamo i nostri comportamentalisti, abbiamo i nostri educatori, abbiamo i volontari dei canili, ed è una parte molto importante per noi, perché consentirà alla gente di andare a spasso con i propri animali in allegria e in tranquillità. E già in programma un altro appuntamento che sarà sabato prossimo, sempre alle 10.30, sempre qui all'interno del parco Le Vallere, la cascina Vallere. Vuoi dirci due parole anche su questo? In maniera molto semplice, sarà un incontro sul fit walking, sulle camminate salutari. Gli ospiti saranno di altissimo livello, avremo il pluripremiato con medaglie d'oro alle Olimpiadi di marcia, Maurizio Damilano e il professor Parodi, che ci spiegheranno che cos'è la camminata salutare e anche lì sarà l'apertura alle iscrizioni per incominciare il progetto Lotta alla Cronicità, che vedrà come, diciamo così, pietre miliari le camminate da soli in fit walking e con i nostri animali. Grazie a tutti per l'ascolto, per la gentilezza. Grazie a te, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e che ci seguiranno. Mi raccomando, non perdete gli appuntamenti che comunque seguiranno. Questo è il primo. Sabato prossimo avremo un nuovo appuntamento, ma via via, c'è un programma davvero molto, molto interessante. Alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!